Percy. Al tramonto, Percy trovò Nico che legava delle corde intorno al piedistallo dell'Athena Parthenos. «Grazie», gli disse. Il figlio di Ade aggrottò la fronte. «Di cosa? Avevi promesso di portare gli altri alla casa di Ade. E l'hai fatto». Nico legò insieme le estremità delle corde e formò un cappio. «Mi hai tirato fuori dalla giara di bronzo a Roma. Mi hai salvato la vita per l'ennesima volta. Era il minimo che io potessi fare». Aveva un tono di voce duro, guardingo. Percy avrebbe voluto capire come funzionava la sua testa, ma non c'era mai riuscito. Nico non era più il ragazzino della Westover Academy fissato con le carte di mitomagia, né il semidio solitario e arrabbiato che aveva seguito lo spirito di Minosse nel labirinto. «Ma chi era?» «E poi sei andato a trovare Bob?» Percy raccontò a Nico il loro viaggio nel Tartaro. Pensò che, se esisteva qualcuno in grado di capirlo, quello era lui. «Hai convinto Bob a fidarsi di me, anche se io non sono mai andato a trovarlo. Non avevo più pensato a Bob. Probabilmente ci hai salvato la vita, comportandoti in modo gentile con lui». «Sì, beh, non pensare più a una persona può essere pericoloso», commentò Nico. «Amico, sto cercando di ringraziarti». Nico rise senza convinzione. «Sto cercando di dirti che non ce n'è bisogno! Ora devo finire qui. Se puoi lasciarmi un po' di spazio, eh?» «Sì, sì, va bene!» Percy indietreggiò, mentre Nico tendeva i cavi e se li passava sulle spalle come se la tena partenos fosse uno zaino gigantesco. Ci era rimasto un po' male nel sentirsi scacciato in quel modo. D'altro canto, Nico ne aveva passate tante, si disse. Era sopravvissuto al Tartaro da solo. E lui sapeva per esperienza quanta forza e coraggio ci volessero. Annabeth risalì la collina e li raggiunse. Prese per mano Percy e si sentì subito meglio. «Buona fortuna!» disse a Nico. «Grazie». Nico non incrociò il suo sguardo. «Anche a voi». Un minuto dopo, Reina e Edge arrivarono con l'armatura completa e gli zaini in spalla. La semidea aveva un'aria truce, come se fosse pronta a combattere. Il satiro invece sorrideva beato, quasi si aspettasse una festa sorpresa. Reina diede un abbraccio ad Annabeth. «Ce la faremo», le promise. «Lei annui». «Lo so». Edge si mise in spalla alla mazza da baseball. «Sì, non preoccupatevi. Andrò al campo a trovare il pupo. E volevo dire, porterò questa pupa al campo». Diede una pacca su una gamba all'Atena Partenus. «Bene, afferrate i cavi, per favore!» disse Nico. «Si parte!» Reina e Edge ubbidirono. L'aria si fece cupa. L'Atena Partenus sprofondò nella propria ombra e scomparve, insieme ai suoi tre accompagnatori. Largo Due salpò dopo il calare delle tenebre. Fecero rotta verso sud-ovest finché non raggiunsero la costa, poi si tuffarono nel mar Ionio. Persi tirò un sospiro di sollievo, sentendo di nuovo le onde sotto di sé. Il viaggio verso Atene sarebbe stato più breve sorvolando la terra, ma dopo l'esperienza con gli spiriti della montagna in Italia, avevano deciso di non passare sopra il territorio di Gea più di quanto fosse necessario. Avrebbero navigato intorno alla terraferma, seguendo le rotte degli eroi greci dell'antichità. A Persi andava benissimo. Gli piaceva viaggiare di nuovo nell'elemento del padre, con l'aria fresca nei polmoni e gli spruzzi salmastri sulle braccia. Si mise in piedi al parapetto di dritta e chiuse gli occhi, teso a percepire le correnti. Ma continuavano a balenargli nella testa le immagini del tartaro, il flegetonte, il terreno coperto di vesciche dove i mostri si rigeneravano, la foresta oscura dove le arai volteggiavano fra le nubi color sangue. Soprattutto ripensò a una capanna nella palude, con un fuoco accogliente e rastregliere di erbe e carne di dragone a essiccare. Si chiese se quella capanna fosse ormai vuota. Annabeth si strinse al suo fianco, rassicurandolo con il proprio calore. «Lo so», sussurrò lei, decifrando la sua espressione. «Neanch'io riesco a togliermi quel posto dalla testa. Damaseno... e Bob... lo so», ripete Annabeth con un filo di voce. «Dobbiamo dimostrare che il loro sacrificio è valso la pena. Dobbiamo sconfiggere Gea». Persi fissò il cielo notturno. Gli sarebbe piaciuto ammirarlo con Annabeth dalla spiaggia di Long Island, invece che su quella nave dall'altra parte del mondo, diretti verso una morte quasi certa. Si chiese dove fossero Nico, Reina e Edge e quanto ci avrebbero messo per tornare a casa, sempre che sopravvivessero al viaggio. Immaginò i romani che in quello stesso istante formavano i ranghi, circondando il campo mezzo sangue. Quattordici giorni per raggiungere Atene. Poi, in un modo o nell'altro, la guerra sarebbe stata decisa. A prua, Leo fischiettava allegramente mentre armeggiava con il cervello meccanico di Festus, forbottando qualcosa a proposito di un cristallo e un astrolabio. Al centro della nave, Piper e Hazel tiravano di scherma. Le lame d'oro e di bronzo tintinnavano nella notte. Jason e Frank erano al timone e parlavano a bassa voce. Forse si raccontavano storie della legione o riflettevano insieme sul ruolo di pretore. «Abbiamo un bel equipaggio», commentò Percy. «Se proprio devo andare incontro alla morte...» «Non penserai di morire senza di me, testa d'alghe», lo interruppe Annabeth. «Ricordi? Non ci separeremo mai più». «E quando saremo tornati a casa...» «Cosa succederà?» Lei lo baciò. «Chiedimelo di nuovo quando avremo sconfitto Gea?» Percy sorrise, felice di avere qualcosa da attendere con impazienza. «Come vuoi tu?» Mentre si allontanavano dalla costa, il cielo si scurì e spuntarono altre stelle. Il figlio di Poseidone osservò le costellazioni, quelle che Annabeth gli aveva insegnato tanti anni prima. «Bob vi saluta», disse alle stelle. Largo 2 ci volò via nella notte.